La Regione Abruzzo stanzia 2 milioni 600 mila euro per il ripristino definitivo della discarica alla Torre di Teramo. A gestire l'intera operazione sarà il Sindaco Gianguido D'Alberto che con la firma della Convenzione odierna diventa commissario ad acta per gli interventi che dovranno essere eseguiti sul sito e terminati nel 2021. E' chiaro che i termini sono importanti però visto anche quello che è successo in passato e la storia della discarica è bene che tutto venga fatto a regola d'arte per bene nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni tecniche. La discarica alla Torre di Teramo crollò il 17 febbraio del 2006 portandosi dietro oltre alla montagna di rifiuti gravi problemi ambientali ed economici di smaltimento del percolato con aggravi per le tasche dei cittadini terramani. Quanto è costata in definitiva la chiusura di questa discarica? E' chiaro che quando parliamo di costo della discarica noi dobbiamo fare riferimento anche al peso enorme economico della gestione dello smaltimento del percolato in questi anni che in alcuni esercizi finanziari ha toccato il picco anche di 700 mila euro. Qui non solo per il problema tecnico della discarica di carattere ambientale ma anche e soprattutto per una gestione politica assolutamente inefficiente se consideriamo che per tanti anni non è stata fatta la gara per l'affidamento del servizio così come noi chiedevamo. La regione Abruzzo ha ritenuto dunque opportuno sistemare la difficile situazione ambientale dell'ex discarica terramana attingendo la somma dei 2 milioni 600 mila euro dai 12 milioni del masterplan cifra complessiva per mettere in sicurezza 764 siti inquinati presenti sul territorio abruzzese. Una firma importante per Teramo e per la discarica La Torre. Sì speriamo insomma siamo sicuri che si andrà a ripristinare il sito con una messa in sicurezza permanente di questa discarica che è da sempre presentato criticità ambientali idrogeologiche di altro tipo e con i 2 milioni e 6 che la regione con fondi masterplan ha stanziato il comune potrà portare questo obiettivo avanti entro il 2021. Ma in provincia di Teramo ci sarà mai una discarica attiva? Beh dunque una discarica è già stata autorizzata e realizzata parzialmente a notaresco nell'ambito del sito dell'ex CIRSU società andata fallita e oggi interessata da molteplici diciamo contenziosi. La regione sta facendo di tutto per poter riattivare il sito e dando quindi alla provincia di Teramo piena autonomia impiantistica sia per le attività di trattamento dei rifiuti sia di tal quale sia l'organico sia per le attività di smaltimento perché c'è una discarica di servizi di circa 500 mila metri cubi. Grazie! 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 Grazie!